Siamo meritatamente sul palco, i buchi per terra! Laura Galbiatti, dei buchi per terra! Laura Galbiatti, migliora giocatrice del torneo! Veniamo dunque ora al miglior giocatore dell'edizione 2013 del torneo di bici bolli di Rodello! E dai tanti, il miglior giocatore è Marco Vassalli dei Mortacci Tua! Laura Galbiatti, migliora giocatore dell'edizione 2013 del torneo di bici bolli di Rodello! Questa locandina che tu hai fatto, Tua! E anche se non è di Agnadello! I campioni per terra! E' un'altra giocatore di bici campioni! I bolli e patate! E' un'altra giocatore dell'edizione 2013 del torneo di Bici bolli 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 di Bici! E' un'altra giocatore invece! Grazie a tutti. Grazie a tutti.